Notte di follia tra Belpasso e Mister Bianco questa notte. Due stazioni di servizio sono state prese di mira da alcuni criminali. Sembra che abbiano agito due bande diverse, anche se non si esclude che possa essere lo stesso nucleo di malviventi. Ad essere colpite sono state la stazione di servizio SP di Sebastiano Pappalardo lungo la statale 121, corsia di marcia da Catania verso Paternò in territorio di Mister Bianco e la stazione di servizio ESSO lungo la provinciale 56 barra prima in territorio di Belpasso. Il primo colpo messo a segno, sicuramente il meno grave, è quello compiuto ai danni della stazione SP sulla statale 121 all'1.30 circa di questa notte. Ad agire tre persone con l'avvolto nascosto e con indossi guanti, la banda ha approfittato della giornata di chiusura del bar per entrarvi dentro dopo aver forzato la porta antipanico e qui prendere di mira il distributore automatico di sigarette. Non chiaro cose malviventi hanno portato via l'inventario è ancora in corso. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della tenenza di Mister Bianco che stanno visionando le immagini di videosorveglianza della stazione di servizio ma anche le immagini di impianti di sorveglianza distribuiti sul territorio. Da Mister Bianco a Belpasso dove un secondo gruppo criminale è entrato in azione lungo la provinciale 56 barra prima la Belpasso Camporotondo Etneo colpendo il distributore di servizio della ESSO. In questo caso la banda ha preso di mira la colonnina del self-service. Per poter portare via l'intero pezzo i ladri hanno buttato a terra i due distributori di carburanti posti a destra e a sinistra della colonnina. L'azione sarebbe stata compiuta secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò che stanno conducendo le indagini tra l'1.30 e le 3 del mattino. Determinanti per riuscire a ricostruire la dinamica dell'accaduto saranno le riprese delle telecamere di sorveglianza che i carabinieri stanno visionando. Da capire con che mezzo la banda è entrata in azione. Di certo un mezzo pesante sul quale probabilmente poi hanno caricato la colonnina del self-service carica di soldi portandola via. Per entrambi i fatti il reato che si configura è quello di furto aggravato.